Sicuramente sono felicissimo di essere tornato qui, quando si è presentata la possibilità non ho esitato un momento perché comunque sono stato bene qui l'anno scorso e non si può dire no a questa società, ai ragazzi che comunque sono, è un blocco che è rimasto l'anno scorso e quindi ci sono comunque affezionato e mi trovo molto bene già con loro. Sì assolutamente, dobbiamo rimetterci in carreggiata, sono qui per dare una mano al gruppo e sono a disposizione di tutti. Stiamo allenando ovviamente con le accortenze che ci sono questo virus purtroppo, però comunque ci stiamo allenando molto bene, siamo a disposizione del mister e ci stiamo impegnando quotidianamente sul campo. Stiamo provando tante altre soluzioni, comunque il campionato è fermo quindi ci sta tempo per lavorare, per migliorarsi e per fare bene. Sì assolutamente, non solo quella di sempre ne ha detto che sarà sicuramente una sfida importante ma su tutte le altre rimanenti, quindi cerchiamo di dare il massimo e di arrivare più in alto possibile.